Sepolte nella sabbia per settimane, poi la schiusa e la corsa, seguendo il riflesso della luce sul mare. Sono 214 le piccole tartarughe caretta caretta nate sulle spiagge di San Pietro in Bevagna, da Specchiarica alla riserva naturale Salina dei Monaci, Marina di Manduria. Anche quest'anno ad assistere a questo spettacolo emozionante, ma soprattutto a monitorare e a proteggere scrupolosamente i nidi, appositamente transennati e segnalati con cartelli, facendo i turni di guardia notte e giorno, sono i volontari del Centro Recupero Tartarughe Marine WWF Italia Policoro. Sono sempre loro a garantire il successo della nidificazione, anche grazie a progetti di informazione e sensibilizzazione rivolti ai bagnanti, residenti e turisti per rispettare le aree del nido e quali comportamenti adottare. La magia si è compiuta, ha fatto sapere il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, ringraziando il Centro di Policoro, sotto la guida del biologo Gianluca Cirielli, ma anche la Capitaneria di Porto, il WWF di Policoro, la Lega Navale di Torre Colimena e a tutti i volontari. Con il loro impegno e passione hanno reso possibile il completamento di questa delicata fase del ciclo vitale, ha scritto il primo cittadino. La scelta delle tartarughe caretta di deporre le loro uova sulle spiagge delle marine di Manduria è ancora una volta un importante segnale della biodiversità e salute delle spiagge di San Pietro in Bevagna, dove si è registrato un successo di schiusa del 92% e un successo di emersione del 91,3%. Ora le piccole tartarughe andranno incontro al loro destino in mare aperto, fatto di predatori e purtroppo anche di reti a strascico dei pescatori. Con l'augurio, scrive ancora Pecoraro, che possano tornare sulle nostre spiagge per deporre le loro uova.